Gentili tre spettatori, buona giornata. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal Corrierone della Sera, parla della situazione attuale del governo, parla di Conte, Draghi e di Letta e anche della Lega. E' sempre più convinta della sua posizione solitaria all'opposizione. Dice mi scrivono in tanti che all'inizio avevano dubbi e adesso mi chiedono di andare avanti. Perché al di là di qualche nome cambiato qua e là, questo governo è in perfetta continuità col precedente e non poteva essere altrimenti, dice, visto che la maggioranza che lo sostiene è in larga parte la stessa del Conte 2. Ma non vuole essere etichettata come la signora No che si oppone a tutto solo per principio. Dice a bocciare tante scelte di questo governo non sono io, ma gli italiani. Ma dice, glielo ha detto a Salvini, chiede il giornalista, che sembra vivere male il suo atteggiamento duro? Dice intanto non è un atteggiamento duro, dice Meloni. Quando sono stato d'accordo non ho avuto alcun problema a dirlo. Poi non faccio polemica con i miei alleati, con i quali sono sicuro che dopo questa parentesi ci ritroveremo per governare assieme il Paese. Semmai mi dispiace sentire da altri toni polemici verso di noi. Abbiamo fatto scelte diverse, io rispetto le loro e mi aspetto lo stesso. So che la politica ha regole e vince chi ha più numeri, anche all'interno di una maggioranza. Quindi non rimprovero loro nulla, ma il ruolo dell'opposizione è anche dire quando le cose non vanno. Ma per Salvini, dice, molto è stato ottenuto grazie alla Lega. Dice, beh, ma ben venga se si riesce a fare asse. Loro con le difficoltà che sostengono un governo impone a noi dall'opposizione con la libertà di poter incalzare. Si figuri, abbiamo perfino ottenuto che qualche richiesta di Fratelli d'Italia fosse accolta, come le vaccinazioni anche da parte dei farmacisti o la priorità per i disabili. Ma su altri temi non si sono fatti passi avanti. Su quali temi? Il no allo spostamento dei 5 miliardi dei fondi per l'inutile cashback, l'iniziativa propagandistica della sinistra in favore delle imprese che hanno ricevuto ristori o sostegni. Gli chiamino come vogliono che le parole contano zero. Era una richiesta di tutto il centrodestra, invece restano i soldi per i navigator e c'è continuità assoluta con il governo Conte sulla gestione della pandemia. Si è fatto il minimo, certo cambiando arcuri nella composizione del CTS, ma in questo non sono stati inseriti i rappresentanti del mondo produttivo come noi chiedevamo e si continua a procedere con zone rosse e chiusure immotivate di palestre e ristoranti. E nessun aumento della capienza dei mezzi pubblici e non si lavora sulla vaccinazione a domicilio. Ma poi il giornalista gli chiede ma sia sincera con la Lega vi state allontanando? Anche in Europa Salvini pensa a un nuovo gruppo con ungheresi e polacchi. Lei dice non ci stiamo allontanando, da inizio legislatura Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega fanno parte di tre distinte famiglie europee, PPE, conservatori e ID. Ma vorrebbe che Salvini aderisse ai conservatori, che lei appunto è presidente dei conservatori europei, e lei risponde che da presidente sarei ovviamente contenta di far crescere la famiglia e portare altri sulle nostre posizioni, ma è il partito che decide sulla base di eventuali richieste che ancora non sono arrivate. Non mi sembra un tema così caldissimo, è un tema così importante. E sulle amministrative lei dice lo dico in continuazione, vediamoci e decidiamo in mezz'ora, è meglio che portare avanti un dibattito estenuante sui giornali. Lei dice visto che i giornali ci ricamano sopra è meglio mettersi d'accordo sulle amministrative e finisce lì, così lasciamo perdere e fermiamo i giornali che continuano a alimentare questo scontro immaginario tra i leader del centro-destra. Poi viene chiesto sulla candidatura di Bertolaso, lei dice io voglio vincere, nessun vetto a nessuno, bisogna vederci e trovare la soluzione migliore. In ogni caso nessuno ha ancora ufficializzato le proprie scelte. Poi c'è Giorgia Meloni che chiede il Copasir, ma la Lega non ci sta, la Commissione, e lei risponde non lo pretendiamo perché siamo avidi di poltrone. Se avessi voluto fare la guerra avrei chiesto di ridiscutere molte altre commissioni che sono guidate anche ad esponenti del centro-destra. Ma qui è una questione di democrazia e legge, il Copasir è il comitato che controlla l'operato del governo sui servizi segreti. Può mai essere che il controllore sia esponente della maggioranza del governo che deve controllare? E i singoli partiti c'entrano poco, trovo invece grave che nelle istituzioni tutti tacciano, i presidenti delle Camere ma perfino il capo dello Stato che è il garante delle regole. E su questo ha totalmente ragione. La commissione, il Copasir, che controlla sui servizi segreti gestiti dallo Stato deve essere l'opposizione, non può essere la stessa maggioranza che controlla la stessa maggioranza. Questa mi sembra un'ovvietà, ma Giorgia Melo ne dice qui, però nessuno dice niente. I rapporti paiono però idilliaci con gli avversari. Enrico Letta è stato felice di ricevere la sua telefonata. E lei dice evitiamo forzature, i miei rapporti saranno sempre più idilliaci con gli alleati che con gli avversari. Detto questo io sono segretario di un partito e ho sempre dimostrato di aver rispetto per i miei avversari, proprio perché politicamente non faccio sconti. Sul piano personale cerco di avere rapporti franchi e leali. A maggior ragione se il mio avversario è valido. Ho chiamato Letta per fargli un in bocca al lupo e una persona con cui c'è rispetto reciproco credo si possa confrontare civilmente sui grandi temi che riguardano tutti. Ma non nascondono che considero Letta un garante dell'attuale establishment europeo e questo sarà tra noi terreno di scontro. Credo infatti che Draghi debba alzare la voce con l'Europa sulla gestione dei vaccini. Così come credo che Letta sia un elemento di continuità con il suo partito. Rilanciare gli ussoli e voto ai sedicenni dimostra quanta lontananza ci sia dai problemi veri delle persone. Un segretario di rottura avrebbe detto ora pensiamo agli italiani e non l'ha fatto. Questo è assolutamente condivisibile, è sempre quello che ho pensato anch'io. Nel senso che fosse arrivato Bertaccini a questo... ebbene non Bertaccini. Bertaccini era un mio amico quando ho fatto il militare. Chissà perché mi è venuto fuori Bertaccini, lo salutiamo. Vabbè, è Bonaccini. Se fosse arrivato Bonaccini sarebbe stata tutt'altra cosa, saremmo stati qui a dire tutt'altro. Invece è arrivata la continuità con Zingaretti, anzi una continuità ancora più marcata. Ecco, come dice Giorgia Meloni, un segretario di rottura avrebbe detto ora pensiamo agli italiani e non lo ha fatto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti, ci vediamo al prossimo video tra circa una ventina di minuti.